Ciao, sono Penty! Dipingo quadri e faccio le styling di mobili! Questo è il video del mio ultimo quadro e ti spiegherò il procedimento, così se ti piacerà anche tu potrai riprodurlo con facilità! Cominciamo! Per prima cosa ho steso una vernice o acrilica. Ho creato dei fiori con la pasta materica e un cucchiaino e aggiunto i pistilli con sa capoche. È divertente! Ok! 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 Perfetto cracklay non si è presentato! Oh no! Penty! Ho sbagliato! Ho pinturato i fiori con vernice acrilica oro e argento! Senza cracklay ho cambiato progetto e ho fatto delle onde sempre con oro e argento! Ho poi sfumato tutto con il blu! eccoci al Ho protetto i bordi con lo scotch per poi articcare la foglia oro con la colla a missione. Infine ho un collato con l'atta degli strass a perline che mi piacciono tanto. Ecco il quadro finito, lo puoi acquistare sul mio sito www.myrestyling.com ti lascio il link del sito qui sopra. Se ti è piaciuto il mio video iscriviti al canale e commenta qui sotto!